Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è sabato 29 ottobre 2022. Questa è la rassegna stampa di Fano TV, quindi bentrovati. Iniziamo insieme la giornata per quanto riguarda la lettura ai giornali. Iniziamo però questa giornata che è l'ultima dell'ora legale. Questa notte gli orologi subiranno un arretramento per quanto riguarda le ore. Domani magari si dormirà un'ora in più, però farà notte prima. Insomma è l'ora, è il giorno dell'ora legale che tramonta. Invece questa mattina il sole sorge alle 7.39 e tramonterà alle 18.04. Vediamo subito l'almanacco per iniziare la giornata. E io questa mattina mi sono chiesto, esistono ancora santi al giorno d'oggi? Spesso leggiamo santi che sono vissuti o nel Rinascimento, quando c'è stata poi la controriforma, oppure all'inizio della Chiesa, durante le persecuzioni dell'Impero Romano. Invece esistono santi anche nella nostra epoca. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo evidenziato il giovane Acutis. Oggi invece parliamo della beata Chiara Luce Badano. Era una giovane focolarina, era nata nel 1971 a Sassello. E si è spenta nel 1990, non molto tempo fa, a causa di un sarcoma osseo. Durante la sua breve vita, Chiara visse un rapporto intenso con la sua fede e morì felice per il suo incontro con Gesù. Insomma, disse a tutti i suoi parenti, i suoi genitori e gli amici, non piangete perché io sono felice. Questa è la beata Chiara Luce Badano, una santa da conoscere più profondamente. E vediamo anche le previsioni del tempo, vediamo che il sole ancora appare, fa capolino. Non fa capolino perché poi è anche persistente in tutta la nostra regione. Sarà una giornata all'insegno della stabilità, con cielo sereno. Temperature al di sopra delle medie del periodo. Le massime arriveranno fino a 23-24 gradi, le minime non più basse di 13 gradi. I venti spireranno sulle coste con una tensione debole da nord-nord-ovest, mentre sull'interno una variazione, li vedremo spirare da est-nord-est. Le temperature dovrebbero essere in caro, ma insomma rimangono sempre quelle. Il mare è poco mosso. Ad ora, apriamo il giornale oggi sul Corriere Adriatico e vediamo l'apertura dedicata al problema delle abitazioni. Fano è una città ad alta tensione abitativa. Lo è da tempo. C'è una lunga lista di circa 400 persone che attendono una casa popolare. Ci sono molte case popolari a Fano. Vediamo se riesco a trovare il numero. Sono circa 600. 603 sono esattamente. Di cui 173 sono di proprietà comunale. 430 sono dell'Erap. Ma di queste case alcune sono sfitte e non vengono assegnate. Sono sette quelle che non vengono assegnate nei grandi palazzoni. Li vediamo qui di via del ponte. Sono sette che sono sfitte, alcune anche da diverso tempo. Sono anche ristrutturate, a quanto dicono i residenti. E i residenti si lamentano perché poi le spese condominali di questi appartamenti vuoti gravano su loro stessi e quindi pagano un po' di più. I residenti di 71 case si accollano le spese per 78. In realtà le case sono soltanto sette. Le abitazioni sono ristrutturate. Sette alloggi Erap senza inquilini. Ma il condominio si paga per tutti. Questo è un po' quello che si denuncia. Comunque il problema delle ristrutturazioni e delle case popolari è sempre vivo. Ed è anche all'attenzione dell'assessore Tinti il quale segue con interesse e con particolare attenzione il problema dell'agibilità delle case. Sono tempi elefantiaci quelli che servono poi per superare, per fare i lavori. Ma non solo per fare i lavori, ma anche per superare tutte le fasi burocratiche che servono per ottenere l'agibilità. Alcune case popolari sono in condizioni veramente di degrado indicibile perché sono lì da tanto tempo senza alcun intervento. Un articolo di cronaca, fondopagina del Corriere Adriatico, insultato, reagisce e usa il piccone. Ebbene, era un giovane che è passato con il monopattino nel centro storico. Si tratta di un 23enne moldavo, se ne stava tornando a casa in monopattino in una via del centro quando, passando vicino a un giovane, è stato insultato. Battene a casa. E ci sarebbe stato un piccolo alterco. Qualcuno dice anche che sono venuti alle mani. E poi la vittima che cosa ha fatto? Una volta che è andato a casa è tornato in cerca del suo insultatore con un piccone in mano, insomma. E quindi è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata dall'utilizzo di arma impropria. Insomma, un episodio che per fortuna non è finito male perché poi, insomma, il piccone non è stato usato. E ieri mattina sono state presentate le iniziative a Sant'Orso della festa di Halloween. Una festa che è stata connaturata con un fine diverso da quello che è in realtà Halloween. Un fine positivo. Niente streghe, niente maghi, niente pipistrelli, niente riferimenti ai malefici ma soltanto gioia e divertimento per i bambini più piccoli. Una serie di iniziative che è stata presentata ieri dall'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori che ha presentato questa seconda edizione intitolata Bella Storia. Sì, perché è nata da una brutta storia. Da una serata così che è andata così in eccesso, che è andata sopra le righe due anni fa a Sant'Orso quando ci sono stati anche atti di vandalismo nella sera di Halloween. Da allora il registro è cambiato e si organizzano feste istituzionali, cioè feste ben organizzate, ben protette, sicure, in modo da far divertire con sicurezza, in modo particolare, più piccoli gli adolescenti. Giriamo pagina e vediamo una notizia che riguarda l'aspetto idrografico. Sappiamo come i torrenti, dopo quanto è avvenuto il 15 settembre scorso, vengono tenuti sotto stretta sorveglianza, in modo particolare l'Arzilla. L'Arzilla è un torrente, un corso d'acqua più pericoloso del Metauro. E' stato evidenziato questo l'altra sera a Gimarra, quando si è tenuta una riunione di tutti i residenti, l'ha convocata l'amministrazione comunale, per coinvolgere gli abitanti in una esercitazione. Si simula domenica, 6 novembre prossimo, una inondazione dell'Arzilla. E quindi si invita tutta la gente che abita nei pressi a collaborare. Ci saranno dei punti di raduno, scatta l'allarme, la gente è invitata ad andare in qualche zona di emergenza, che sono state identificate, una nel parcheggio scambiatore di Gimarra, altre nel parcheggio dell'ex CIF, nel parcheggio dell'ex Vittoria a Lido. Lì ci sono le zone di concentramento, interverranno poi i volontari della protezione civile per portare i cittadini nelle diverse destinazioni. Se per caso non avranno più possibilità di entrare nei loro appartamenti, potranno essere alloggiati negli alberghi, oppure nel centro di emergenza di In Gualchiera, nei pressi dell'aeroporto, nelle palestre. Un po' come è avvenuto durante, non era un'esercitazione, ma durante la fase di emergenza provocata da una bomba a tempo, che è stata ritrovata in mare davanti alla spiaggia di Sassonia. Ebbene, questa sarà un'esercitazione, ma sarà un'esercitazione importante, perché se Dio non volesse capitasse veramente una piena e una esontazione in quella dell'Arzilla, la gente saprebbe come comportarsi. Passaggi Festival, l'identichi dell'afficcionado. È stata compiuta una indagine tramite delle interviste, per quanto riguarda la reazione del pubblico per questo festival, che è diventato uno dei più importanti, non solo della città di Fano, ma di tutte le Marche. Ebbene, si è rilevato che il pubblico che partecipa a questo evento è composto al 40% da persone che non risiedono a Fano. Le donne sfiorano il 59% e l'età è maggiore di 40 anni in quasi 65 e casi su 100. Omogeneo il dato occupazionale, quando gli studi, quasi il 52%, dichiara di avere la laura o un titolo superiore. Il festival poi è seguito da un pubblico affezionato. I visitatori abituali sono poco meno del 70% e quasi il 60% dei 688 intervistati ha partecipato a più di tre edizioni. Interessante inoltre notare come 55 su 100 sia disponibile a pagare il biglietto di presentazioni librarie, sempre gratuite, sin dalla prima edizione nel 2013. Insomma, adesso pagare il biglietto è uno dei punti su cui bisognerà fare una riflessione. Di questi tempi anche un semplice biglietto lo si è anche visto durante il cambiamento di strategia per l'ingresso ai corsi carnevaleschi. Insomma, un po' si paga dappertutto. E poi abbiamo un altro incidente oggi sui giornali. Un ciclista è stato investito da un'auto nei pressi di Porta Maggiore una brutta frattura e finisce a Torrette con un codice rosso. Attraversava la strada sulle piste pedonali però in bicicletta e quindi è stato così urtato da un'auto condotta da una 71enne e è accaduto ieri a 9.45 nella rotatoria di Porta Maggiore. Nuova area sosta per camper in Viale Kennedy 13 parcheggi lavori al via li ha annunciati l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Barbara Brunori stalli strategici per il turismo open air. A due anni da quando l'idea fu tradotta nello studio di fattibilità si avvicina ormai la data i lavori dovrebbero compiersi nel 2023 per la modifica dell'area di sosta in fondo a Viale Kennedy nei pressi del cimitero urbano. Accanto al parcheggio dove negli ultimi anni il turismo plein air e le dimore viaggianti hanno sostato siamo a due passi dal centro storico perché poi Porta Giulia sarà lontana circa 300 metri quindi non è non è assolutamente lontano ebbene è uno dei parcheggi più utilizzati non solo dai camper ma anche dalle auto dai turisti si può andare tranquillamente al mare passando per Viale Cairoli oppure il centro storico iniziando a imboccare il corso Matteotti l'obiettivo è quello di lasciare che venga restituito ai soli automobilisti la superficie attuale mentre per quanto riguarda i camper si dà un altro spazio in quell'area verde che viene delimitata dall'attuale campeggio a Via Giustizia che appunto poi sfocia in Via della Liscia e vediamo ora anche altre notizie che riguardano per esempio Mondolfo una notizia di cronaca trova due ladri nascosti nel capanno li costringe alla fuga a suon di pugni ebbene un quarantenne ben piantato muscoloso difende energicamente la casa e allontana gli intrusi li ha trovati mentre cercavano di intrufolarsi nella sua proprietà li ha aggrediti non ha esitato ad affrontarli entrambi e beh qualche danno se l'è procurato perché poi è andato anche al pronto soccorso per un controllo sono stati così eseguiti degli esami per vedere se avesse delle fratture perché qualche colpo l'ha avuto anche lui ma la sua prestanza fisica il suo coraggio è riuscito ad allontanare i ladri ladri notturni che si sono dileguati in fretta vista la piega che stava prendendo la serata e sono andati via senza ovviamente prendere nulla per quanto riguarda Ancona invece vediamo che si sta svolgendo ancora un processo per la strage in discoteca di Corinaldo sono state ammesse le perizie da parte del giudice il processo ai colletti bianchi può partire chi sono i colletti bianchi sono coloro che fanno parte della commissione che ha decretato l'agibilità di quella festa che poi è sfociata in tragedia sono state respinte dal giudice in questa seduta le eccezioni della difesa dalle parti civili la richiesta di sequestrare i beni degli imputati i legali di dieci imputati avevano infatti chiesto l'audizione di oltre 1300 testimoni ovvero tutte quelle persone informate sui fatti già verbalizzate dai carabinieri ma il giudice vuole procedere in fretta e quindi ne accettate soltanto 250 comunque è un numero considerevole e 250 testimonianze sono certamente significative verranno sicuramente ascoltati i consulenti della procura e poi vediamo che sul Corriere Adriatico si rievoca una tragedia caduta in cielo era lo schianto tra due aerei due tornado che è avvenuto nei pressi nei pressi di dunque vediamo dove era nei pressi vediamo di Ascoli sì in questo territorio ebbene nell'incidente morirono quattro piloti quattro capitani è stata chiesta la condanna un anno per Sacoltelli e l'assoluzione per Ditora dunque sono due accusati uno è Sacoltelli 46 anni di Verbania capocellula della pianificazione aerea per quanto riguarda l'esercitazione in cui erano impegnati queste quattro aereo l'altro invece è Ditora che è stato chiesta la soluzione per lui 50 anni di origini campane ha chiesto a lui era affidata la responsabilità della pianificazione dell'esercitazione ma anche i PM hanno capito insomma che lui non c'entrava non c'entrava nulla diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi vediamo come l'apertura è dedicata alla viabilità di Muraglia che sta per essere cambiata a causa della chiusura di via Carloni chiusura della strada Carloni scatta la fase 2 per regolare il traffico la viabilità di Muraglia alla fase 2 meno vigili affari da tutor a chi guida e la durata del verde al semafero di via Fratti che sarà regolata per consentire il passaggio in media 60 auto provenienti da Fano al mattino il consiglio di quartiere che si è svolto quello di Muraglia che si è tenuto lunedì scorso in via Petrarca non è stato solo l'occasione per parlare dell'ospedale se l'ospedale in Muraglia è una realtà importante per tutto il quartiere ma ha parlato anche di viabilità della viabilità circostante come quella attorno alla rotatoria di strada dei colli e la sicurezza delle vie interne come l'ipotesi che è stata avanzata dall'assessore Belloni di creare nuove zone 30 dove la velocità deve essere particolarmente ridotta un altro articolo sullo stesso argomento coinvolge Villa Fastigi dove i pedoni e i ciclisti saranno più sicuri con l'attraversamento anche il circolo del PD sollecita il comune dopo la mozione di Pagnoni di Dario per quanto riguarda la tutela degli utenti del traffico più deboli ovvero dei pedoni ed ora per assicurare la sicurezza all'interno dei bus dove non di rado accadono anche episodi di intolleranza vediamo che si usa la bodycam una videocamera che immortala un po' tutto quello che viene all'interno dei mezzi i vertici di Ami Adria Bus il servizio entrerà in funzione dal primo novembre e si sono verificate veramente delle aggressioni ai controllori sui bus e poi anche delle liti tra i passeggeri insomma ci sono stati anche dei casi di danneggiamento dei sedili delle strutture all'interno degli autobus ed ora qualcuno per esempio non voleva pagare il biglietto e quindi ha dato in intemperanze e dal primo novembre da pochi giorni ci saranno questi occhi vigili che vedranno immortelleranno tutto quello che sta accadendo all'interno di questi mezzi per poi prendere i dovuti provvedimenti e il giornale parla ancora oggi di rifiuti rifiuti industriali a rischio collasso lo dice la Confindustria subito un impianto di smaltimento viene così reclamato appunto dai rappresentanti delle piccole medie industrie e conferire fuori regione costa le aziende 10 milioni cumuli di rifiuti che sono all'interno dei capannoni devono essere smaltiti e nelle vicinanze di impianti ormai questi ultimi insufficienti a contenere tutta la montagna di rifiuti che deve essere smaltita la gestione degli scarti per le imprese locale vicino al collasso il 30% dei circa 3,750 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti speciali prodotti dalle aziende marchigiane del pesarese hanno bisogno di un più efficiente servizio di smaltimento ed è questo il senso di questo articolo mentre per quanto riguarda i cassonetti intelligenti mancano ancora 365 utenti che devono ritirare la loro scheda ci sono i ritardatari comunque sembra che sia un servizio efficiente che migliori lo smaltimento dei rifiuti nella zona in cui questo viene attuato ed ora si parla ancora di turismo perché insomma il caldo favorisce ancora qualche presenza turistica nel nostro territorio e l'APA che è l'associazione degli albergatori dice hotel autunno caldo ma purtroppo le bollette sono triplicate bagni al mare con strutture stagionali chiuse e in segna accese solo nei weekend sarà una città un pochino più triste più smorta però insomma fin quanto non si risolve questo problema dell'aumento delle bollette bisognerà confrontarci con un tenore di vita un pochino più risparmioso un pochino più insomma austero diciamo meglio e ieri è apparsa una brutta una brutta scritta al campus degli studenti a Pesaro al campus fosse uno striscione per la marcia su Roma subito rimosso un vespaio di reazioni intervenuto anche il sindaco Matteo Ricci via quella oscenità ha detto Paolini presidente della regione sporgo denuncia ed ecco lo striscione che è apparso quasi una provocazione anzi no quasi veramente una provocazione fatta in merito ad un avvenimento che forse non sarebbe il caso di ricordare appunto anche se fa parte della nostra storia giovani talenti in concerto eccellenze dei conservatori l'orchestra filarmonica Rossini porta sul palco dell'annunziata i musicisti di domani e sono le promesse della nostra musica vediamo anche la pagina di Urbino apre le porte il regno del tartufo bianco sappiamo come da qualagna si svolge questa kermesse di tipo enogastronomico che è una festa per il palato ma anche di promozione per tutto il territorio sfilano nel red carpet perché insomma il tartufo è il re della gastronomia e quindi ha bisogno di un tappeto rosso per fare avvicinare il pubblico a questa sinfonia di profumi anche grandi chef si parte con la maratona musicale Gualazzi tra i cento artisti poi la magia del cooking show e ora vediamo l'apertura sul resto del carlino per quanto riguarda per quanto riguarda Fano vediamo che è dedicata è dedicata eccola vediamo se la trovo eccola qua vediamo un attimo eccola qua si parla di un processo ve lo voglio segnalare perché è un nuovo atto del fatto che è avvenuto la Rocca Malatestiana dove alcuni ragazzi hanno così inveito e assalito anche altri ragazzi per quanto riguarda lo smalto che avevano nelle unghie aggrediti alla Rocca la sfida si sposta in appello un ulteriore processo il processo è partito il nuovo processo è partito con un rinvio Giuseppe Pasquino papà di una vittima sono sicuro che non avremo sorprese per quanto riguarda una mitigazione della pena che è stata attuata nei confronti dell'aggressore dei due ragazzi che già ha avuto dal tribunale una pena di 5 anni e 9 mesi di carcere oltre a 930 euro di multa per aver rapinato e aggredito insieme a una banda di altri 7 ragazzi due giovani pesaresi e poi vediamo gli altri articoli di cui abbiamo già parlato Santosso celebra Halloween e scaccia i fantasmi del passato mentre una notizia che ha solo il resto del Carlino è quello della nomina di Ennio Cecchini che è il figlio di una celebre famiglia da Fanese che ha operato nella cantieristica che è diventato il presidente di cantieri nelle Marche voglio concludere la nostra rassegna stampa questa mattina con delle notizie di sport per quanto riguarda il calcio vediamo che la Vis oggi devi giocare la partita perfetta l'anticipo con il Reggio Emilia alle 17.30 mentre per quanto riguarda Fano Fano nessuna rivalza è un grande ricordo ebbene Casolla è in tribuna ed è l'ex per quanto riguarda la partita con l'Avezzano peccato fare meno di questo giocatore era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 intanto vi auguro un buon weekend una buona giornata a risentirci a a a a a a